Bettella è un momento personale esaltante direi perché è arrivato questo primo gol tra i professionisti, gioia recente e poi questa convocazione anomala però tu sei anche nella lista dell'Under 20. Intanto partiamo dall'emozione del gol. Sì sicuramente è un'emozione indescrivibile che come ho detto appunto già dopo la partita rimarrà dentro di me per sempre e sono molto contento anche della convocazione a punte nazionale però la mia priorità sono i playoff quindi spero di andare il più avanti possibile col mio club, con la nostra squadra per poi vedere nel proseguo dei giorni come si svolgerà anche il mondiale. Finché il Pescara sarà dentro i playoff tu resterai sicuramente a Pescara? Sì sì sicuramente sono qua. Invece tornando al gol cosa hai pensato? Poi tra l'altro l'hai realizzato sotto la curva nord Marco Mazza? Sì sinceramente prima di andare a letto il giorno primo ho detto minchia pensa magari se segnassi sotto la curva e del giorno dopo si è realizzato quindi è stata una gioia inaspettata voluta da tanto però e quindi sono molto contento di tutto ciò e spero che nei prossimi segui dei giorni e degli anni possa togliermi altre altre grandi soddisfazioni. C'è qualche messaggio che ti è arrivato di complimenti per questa tua prima gioia? Non so, dai tuoi compagni di squadra oppure dal tuo club di appartenenza ad Atalanta? Sì sì ho ricevuto molti messaggi d'affetto e di complimenti quindi li ringrazio e nuovamente e basta li tengo sempre stretti con me. Senti parliamo ora di questi playoff allo stato delle cose il Pescara è in semifinale aspettate la vincente di Verona e Verona Perugia e un bene non aver affrontato il Cittadella che era la squadra che aveva battuto il Pescara entrambe le volte in campionato. No io penso che ogni partita è difficile quindi non dipende tanto degli avversari ma dipende da noi stessi come scendiamo in campo e come ci concentriamo e attiviamo verso la partita. Ovviamente partire da un quarto posto è ancora meglio perché vuol dire che siamo nelle semifinali e siamo ancora molto più vicini al nostro obiettivo quindi c'è da dire solo di lavorare e impegnarci sempre all'allenamento per poi presentarci alla partita al massimo. Senti da giovane apprendista quando tu sei arrivato comunque eri nelle gerarchie probabilmente il quinto centrale adesso hai inanellato una serie di gare da titolare ti senti effettivamente cresciuto e maturato? Sì io già da quando ero a Bergamo ero là sempre puntato sul lavoro sulla concentrazione per migliorare appunto poi sono venuto qua e ho davanti a me grandi esempi quindi ho potuto apprendere ancora molto da tutti loro per poi mettere in pratica tutti i loro insegnamenti tutti gli insegnamenti soprattutto del mister in campo e togliermi grandi soddisfazioni. C'è la possibilità di restare a Pescara in prestito per un'altra stagione? Sicuramente il mio appunto contratto è questo, rimanere qua altri l'altro prossimo anno quindi si vedrà ancora però io sono qua con la testa qua a Pescara.